Anni dicevamo prima, da quando sei salita l'ultima volta sul palco dell'Ariston, io ho questa curiosità perché ognuno di noi, anche chi vive da questa parte, ha dei ricordi legati a Sanremo perché c'è sempre una magia legato a questo festival ed è inutile negarlo. Io volevo sapere per te se c'è un ricordo particolare di questa edizione, di quella passata, se ti dico Sanremo, la prima cosa che ti viene in mente è qual'è? Beh è l'emozione forte che comunque si fa sentire in maniera molto esplicita rispetto che in altre situazioni, è talmente forte che è anche un po' ingestibile e stupisce sempre, anche quando sei dietro che pensi di essere ok e invece all'ultimo momento comunque ti dà quelle vibrazioni in più. Per cui questo mi ricordo, è un impatto che pensavo anche in questa nuova occasione di avere di meno, invece sì, c'è. Prego, grazie.